Vedete questa? Non è solo nessun avvento, è una radio che è una donna meravigliosa. Benzaradio, seguitela, quando? 18 a che ora? Ogni giorno, ogni giorno, H24, noi ci siamo, siamo un po' come il pronto soccorso di Salvini. Che frequenza? Siamo su internet, digital radio, benzaradio.it, scaricate le app, andate sui social, noi ci siamo. E ascoltate Benzaradio, tale che ben ho visto. Listen to Benzaradio. Ma non è io. È Marco, è Marco. Ma sono finta, io ero un paschetto. Il radio tanto non si vede. Ciao.